In queste settimane stiamo lavorando al bando di partecipazione, le iscrizioni termineranno a fine mese e tutto il bando, tutto il pacchetto andrà confezionato per il mese di ottobre. Quindi capite l'importanza di creare momenti partecipativi come questi dove un quartiere si è messo in discussione, assieme a tanti altri della città, per dire se fossi io il capoluogo della cultura per sei mesi cosa farei di più delle attività che già svolgo, come posso farle più in rete, come posso cercare una collaborazione in più. E su questo è venuto fuori il programma di Villa Fassigi e Villa Ceccolini che presentiamo questa sera. Per noi incontrare la creatività, la voglia di fare, dei ragazzi, delle associazioni, dei amministratori che hanno lavorato a questo progetto è fondamentale, un po' un esperimento, un laboratorio di quello che più in grande dobbiamo fare in queste settimane per la candidatura di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, tant'è che con noi ci sono anche i progettisti di Panspice che sono anche tra l'altro il gruppo che ha lavorato con successo non solo la nostra candidatura UNESCO del 2017, ma anche la candidatura di Procida che sarà la prossima Capitale della Cultura, quindi insomma abbia scelta che è un team nazionale di assoluto livello. Esperti in candidature. Esatto, in candidature e in vittorie anche. Non perché vogliamo vincere per forza, sappiamo che sarà molto difficile vincere, quindi non ci facciamo illusioni, ma crediamo che invece sia un percorso fondamentale partecipare, perché come il quartiere Villa Fassigi e Villa Ceccolini e gli altri si sono messi in discussione, ripensati, hanno avuto nuove idee, le hanno discusse, le hanno portate ai cittadini e le realizzeranno adesso per sei mesi, altrettanto sarà importante per noi farlo a livello provinciale e quindi candidare Pesaro Capoluogo vuol dire di fatto candidare tutti i 50 comuni della nostra provincia. Infatti settimana prossima incontrerò intanto i due assessori di Urbino e di Fano per condividere anche da questo punto di vista le strategie, con Fano per recuperare alcune parti importanti del progetto della candidatura di Fano l'anno scorso e con Urbino per iniziare a tracciare appunto la strada 2033 e quindi un lavoro che poi vorremmo in questi tre mesi, che sappiamo sono pochi, però estendere gli altri 50 comuni per fare in modo che si iscriva a un programma condiviso per, speriamo, vittoria, in modo che anche il budget della vittoria, ricordiamo che il premio per la capitale italiana della cultura è di un milione di euro, che possono essere molti, possono essere pochi, ma in ogni caso se dovessimo vincere li vorremmo spendere in tutto il territorio provinciale, quindi con gli amministratori e con le realtà artistiche, culturali, creative della provincia costruiremo un programma per cui in caso di vittoria ogni comune sarà capitale italiana della cultura per una settimana. Pesaro, quartiere di Zagora, è un progetto nato dall'unione delle associazioni di Villa Fastigia e Villa Ceccolini che si sono messe insieme per la prima volta dopo tanto tempo per elaborare un progetto comune che riguardasse entrambe le frazioni del nostro quartiere. Il quartiere 4 è composto appunto da Villa Fastigia e Villa Ceccolini, due comunità vicine ma poco dialoganti. Abbiamo deciso di metterci insieme, di scrivere e partecipare a questo bando indetto dal comune di Pesaro e abbiamo deciso di chiamarlo Pesaro, quartiere di Zagor, un po' per richiamare una famosa frase, citazione di Zagor Camillas che è deceduto recentemente a causa del Covid-19 e appunto per omaggiare la sua figura in quanto ambasciatore di Villa Fastigia nel mondo.